Ciao, io sono Rebecca Questo qui invece Adesso un attimo Ingrandisco un pochettino Così, in modo che tipo Che voi state giocando alle backrooms Ecco, queste sono le backrooms Eee... Strane le backrooms, eh? Ok, qui c'è mia sorella Eee... Prendiamo le armi Ciao Camilla, levati Allora, queste qui sono tutte le armi Che pot... Ok, un attimo Che mi va di solito male Queste qui sono tutte le armi che Mi dà fastidio quando fa così Tutte queste... Oh, a te fai tutto così Cioè, prima non lo facevi Allora, tutte queste sono le armi Ovvio, queste armi sono gratis Perché, eee... Ecco, abbiamo questa Poi prenderemo Eee... Questa però è leggendaria Aspetta Ecco, leggendaria, raga E questo Eee... Oddio, no L'hai fatto cadere Eee... Ok, eccolo, Michi, raga Eee... E' andato un attimo... E' andato un attimo in un posto Ma va bene Ora non c'è un posto molto Ora, ragazzi, prenderemo delle cose Non la torcia Questo Molto utile Ha un tipo di torcia Ma va bene Woooo... Ecco Ecco, ecco c'è le backrooms Eee... Un attimo Camilla Lascia il gatto Ora, un attimo, raga Ok, io devo ritrovare un posto Fai un continuo Oddio, questo è questo Oddio, io quando fa così, raga Scusate No, raga Oh sì, la libreria mia Qui è dove lavoro io Ci entra bene Ecco E metti anche la larghezza Un po' più così E così Ecco, scusate Perfetto Oddio, raga Aspetta Ho capito Un attimo Ecco E, ok Guardate, raga Qui ci sono le mie armi Fagliele vedere Fagliele vedere Guardate Guardare di là Quelle lì sono tutte le mie armi Adesso ve le faccio vedere Da un po' più lontano Ecco, così Da 8 a 8 È il massimo 8 a 9 8 a 9 8 a 9 Fagliele vedere Vedere Ok Imminuisce E riguardami Va bene E guardate, ragazzi Questo qui è tutto il mio studio Questo c'è C'è tutto C'è tutto Questo qui è tutto mio E se c'ho la cosa da maschio Perché dopo farò io un video Dove Miki gioca la sua prima volta A Fortnite Se c'avete Fortnite Vi potete unire direttamente a me Vi potete mandare l'amifizia Io ve l'accetterò di sicuro Di sicuro Gioco sempre a dopo pranzo Dove gioco sempre Perché io c'ho la scuola C'ho 9 anni Non so come Sto prendendo un video È successo No La mia faccia No, ti prego Niente Adesso ti entri Ciao Perché non ti fai chiedere la tua faccia Scusa Eh già Io sono questo io Qui ci sono le piscine Se io ci vedete Qui da qualche parte ci dovrebbe essere mia figlia Vai nella piscina intanto Ecco la piscina E va ci Eh ci sono già andata Qui? Ah no Qui c'è Polpetto Polpetto È sempre di lì dentro Guarda Ma come vedete Qui ci sono tutti i suoi pentacoli E lì è sta polpetto Ecco la mia figlia Cosa stai facendo? Stai di nuovo riprendendo in giro questo povero tesoro Non ti ho fatto niente Senti Dovremmo fare delle cose noi dopo Ok? Sì mamma Yuppi Ho vinto Non mi prendi in giro Tesoro Dopo le parlerò io con lei Ok? Ok grazie Ok ciao Parla tu quel gatto Guarda che dopo noi parliamo Un po' disparate Un po' intanto Ok Camilla Eccoci alle backups Ho parlato con mia mia Siamo cari Quando finisce il video? Perché? Eh perché se no non possiamo giocare sul telefono Io infatti che sto facendo? Sto solo registrare il video senza fare niente Eh infatti Vabbè e io un attimo sto cercando raga Un posticino Sta a 48 di carica E io voglio giocarlo Va bene Fammi un attimo rivedere Ma dai però ritorno sempre qui Io c'è sempre un posto raga Sta a 48 Va bene Allora il video finisce qui Credo Ok questo è Oh ecco raga Ciao Ok eccoci qui Questa è Camilla E questo è il mio servo Guardate Lui è il mio servo Il servo caccoso E questo sono io Ciao Finito il video Ciao a tutti Per un'altra volta Ciao Ciao